Perché chi non parte mai non è che si mette a mettere l'etichetta per la valigia Io non partirò mai con valigia, che me ne faccio? Ecco, volete mettere le pochette, come sta scritto lì? Una pochette per uscire, un bracciale come è uscito l'anno scorso Un portatrucchio, ok, però mettete queste cose per valigia, queste non partono mai inutili Mandarina duck, che sta anche nel disegno della duck che sarebbe l'anatra E' anche bello, arancione e verde, un bel modello, però per chi non parte mai, come menù, l'ho preso un palo Perché la nostra offera è contenta, di là come i gioielli, il bracciale che mi è uscito, che qualche volta metto Che non mettevo da molto tempo, che ce l'ho conservato E sono rimasta male, quindi questo è un appello per la baule, sono rimasta male C'è scritto la sua opera, che possono uscire tre regali Una che vi equivale a la cometa gioielli, qualsiasi tipo di gioielli Una della mandarina duck, che è a livello di valigie, eccetera, eccetera E uno del trucco di Buona Milano Però mi aspettavo anche di una cosa delle valigie Qualcosa di più bello, non mi aspettavo questa cosa Baule sono rimasta male Detto questo, io gli do un 5, giusto perché è carino pure Quindi è per te i baule Fatemi sapere sotto i miei commenti se siete stati contenti del luogo baule Se l'avete mai comprato, se vi è piaciuto, che cosa è uscito E che ne pensate di questo regalo, se è utile o no Fatemi sapere sotto i miei commenti Mettete un bel attimo in via su questo video E vediamo la prossima video Ciao a tutti Da Alessia E fatemi sapere sotto i miei commenti Se secondo te è utile questo regalo per molte persone che non partiranno mai Ciao a tutti